E' l'Italia. Ti voglio raccontare la sua storia. Una sera, tanto tempo fa, venne invitata a un gran ballo. Le avevano detto che sarebbe stata la reginetta della serata, corteggiata dai personaggi più potenti d'Europa. Lei si presentò puntuale in un teatro bellissimo. L'Italia! A dirigere l'orchestra, un maestro d'eccezione, Camillo Benso Conta di Cavour, primo ministro del regno sardo. Il re Vittorio Emanuele! E' i regnanti non si fecero aspettare. Il re Ferdinando di Borbone! Sua santità Pio IX! L'imperatore Francesco Giuseppe! L'imperatore Napoleone Ternso! Tutti la volevano solo per loro. Tira di qua, tira di là, il ballo non poteva cominciare. Cari Baldi, l'eroe dei due mondi! Ma con l'ultimo invitato, la musica cambia. La musica cambia, la musica cambia. Él è tutto questo. Ma Restaurante! Grazie a tutti. E così Garibaldi, eliminati tutti i pretendenti, conquistò la bella Italia. Fu una serata bellissima, un ballo indimenticabile.